La cattura gioca l'Africa, non la storia, va tanto. La cattura gioca l'Africa, non la storia, non la storia. La cattura gioca l'Africa, non la storia, non la storia. La cattura gioca l'Africa, non la storia, non la storia. Ma i catanesi proprio dicono che l'indina è Catania, l'indina è Catania. Il gastro che c'è sulle catanesi, non per l'indina. Allora, ti sanno determinate cose che a me me le hanno spiegate, quando è stato? Io le so. Però c'è magari quella che ne sape, la vena che è convinto con il cane, e questo qua è come Catania. Ma no, io non ho mai semplificato che stiamo facendo. Stiamo venendo dove, a sempre affettare la conoscenza e partecipare questa situazione. Perché è una situazione che sta affermando, perché se non va... Perché io non l'ho mai scelto, ma io non li puoi ammanacciare mai. Allora, io non l'ho mai potuto mai fare questa cosa per una mancia. Si farà, risp Вторà, io non c'è la città di quello che non ho fatto, ma questa via la mancia è la città della moglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.